Ok, ciao ragazzi, oggi faccio questo video per farvi vedere come ha costruito questo supporto per trapano, così posso farlo diventare un trapano a colonna e sfruttarlo per gli utilizzi per cui è destinato un trapano a colonna. Ovviamente ho questo trapano qua che è molto potente, un trapano Stair, 620 watt a due velocità ed è bello massiccio. La struttura l'ho fatta tutta io, saldata di ferro, adesso vi faccio brevemente vedere come l'ho fatta e vi faccio vedere com'è strutturata e qual è il meccanismo semplicissimo per farlo funzionare. Ciao, ciao, guardate tutto il video, ho sentito la potenza. Ok, adesso ho ottenuto questi due pezzi qua che si vanno a unire così. Lo riblocco. Ok, adesso ho ottenuto questi due pezzi qua. Ok, adesso ho ottenuto questo video. 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 vediamo. Ok, adesso ho ottenuto questo video. Questo qua. Qui c'è attaccato il trapano. Ovviamente tutto saldato, perfetto, misura, a squadro. Poi il sistema di sollevamento. Poi il sistema di sollevamento in pratica è fatto così. Qua sopra c'è questo perno dove è fissata saldamente questa corda. sotto uguale, la stessa cosa. Poi tramite questa manovella praticamente la corda gira e fa salire e scendere il trapano. Tutto qui. Primo tempo. Allora, con questo punto che è lunga quanto questo pezzo di legno, adesso io cercherò di bucarlo da parte a parte. Il nostro canale è buon e citanere sempre. Ho ottenuto quest'inizio che costruisce giù circondo nelle vie da known. Il nostro frattro è il nostro servito all' citizen. Questo fu troppo solo anche sul titanere il sostanza, con questo pub Тonese è stato aggiornato questo punto a parte a parte di e權то. La nostra fatta non è troppo alla Zug. Allora, con questo fa oh no, però un mono. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti